Donare sangue è importante, fondamentale, e donare vita, donare qualcosa di sé agli altri. A fare da testimoni alla donazione su invito dell'Avis di Francavilla Fontana è il tenente colonnello Gaetano Farina, comandante delle Frecce Tricolori, un video destinato a diventare virale per l'importanza del messaggio di vita e di solidarietà che lo stesso Farina rivolge ai suoi concittadini. Ciao, sono Gaetano Farina, comandante delle Frecce Tricolori. È stato un grande piacere per me ricevere l'invito dell'Avis di Francavilla Fontana, mia città natale, a comunicare l'importanza di donare il sangue. Spero che questo messaggio raggiunga tante persone, perché ci credo davvero. Con un piccolo gesto possiamo fare tanto, aiutando a curare chi sta peggio, a salvare delle vite, soprattutto in un periodo in cui tutto il sistema sanitario ha bisogno, mai come prima, del nostro sostegno. Si tratta di questo, donare qualcosa di sé agli altri, e con poco possiamo fare la differenza, tutti noi. Non perdiamo tempo, facciamo tutti la nostra parte, come una comunità. È il significato più profondo della bandiera che le frecce tricolori stendono in cielo, con l'orgoglio di rappresentarvi e il desiderio di ispirarvi. Un messaggio intimo, quello che Farina rivolge ai francavillesi. Un messaggio pure, universale, perché donare sangue vuol dire donare vita. Oggi, più che mai, ne abbiamo davvero bisogno. Grazie. 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 Grazie.